Ehi la ciurma, io sono Malzatess e benvenuti in questo video così di conclusione dell'anno vedete siamo già in gennaio praticamente febbraio però colgo l'occasione per l'inizio del nuovo anno per fare un po' una carrellata di quello che la mia vita da videogiocatore ha vissuto in quest'anno appena trascorso, una sorta di Game of the Year Malzatess Edition in cui però farò una carrellata di praticamente tutti i titoli nuovi, giochi nuovi che ho provato quest'anno e che in passato non avevo provato, cioè nel senso che ho visto per la prima volta nel 2016. Le ho divisi in tre sezioni più un bonus esterno e direi di cominciare subito con la top 3 dei giochi che ho provato per le serie del canale Top 3 in realtà sono tre Partivo dal terzo che è Never Alone che ho provato per la serie Natalizia e bello, non ho ancora giocato il DLC, mi è piaciuto senza infame e senza lode nel senso che è carina l'idea, è sviluppata bene, non è che attiri così tanto, non è che mi rimarrà impresso nei secoli a venire. Al secondo posto abbiamo Magic Duels che davvero ha fatto un passo avanti rispetto a quello che era Magic 2015, ha avuto delle belle campagne durante l'anno, dei buoni aggiornamenti e mi è piaciuto. Al primo posto X3, X3 Terran Conflict di cui la serie è ancora in corso anche se sta subendo dei rallentamenti per la fase di grinding, ma è estremamente bello, ci ho fatto tipo 50 ore e super mega contento grazie a Xenon che mi ha fatto conoscere questa serie e questo gioco. Passiamo ora alle recensioni, cioè a tutti i giochi che ho provato perché mi hanno mandato la chiave per farne una recensione. Per alcuni di questi ho già la recensione, c'è già uscita sul canale, potrete trovarla, no, dubito che sia in descrizione, però comunque c'è una playlist apposta, magari metterò il link della playlist qua sotto. Altri invece ci sto ancora lavorando e altri ancora non uscirà mai la recensione, per quelli che non uscirà mai ve lo spiegherò. Comunque in totale sono 17, partiamo dal 17esimo! Loot Hero di X, di cui c'è stata la recensione, inviatomi da VaraGTP. Un po' come ho detto nella recensione non esalta particolarmente, nel senso che diventa rapidamente noioso e con rapidamente intendo tipo un'ora. E quindi niente, cioè magari può essere buono se inteso per cellulare, ma così altrimenti lascia un po' la mano in bocca. 16esimo posto, sempre con un titolo mandatomi dalla VaraGTP, Tap Heroes, che idem come sopra, nel senso che c'è la recensione e niente di che. 15esimo posto, Crest, mi è stato inviato per farne una recensione, ho deciso di non fare una recensione perché più che un gioco è una simulazione, nel senso è una simulazione religiosa in cui si impersona una divinità e si può intervenire con la propria popolazione tramite delle sorte di comandamenti e è difficile che la popolazione capisca effettivamente cosa tu intendessi quando hai fatto quel tale comandamento, poi potrebbero interpretarlo troppo, fanatismo, cioè è bello come simulazione di situazione reale però non è divertente ecco, quindi non ne ho fatto mai una recensione. 14esimo posto per Plantera, il terzo di titoli della VaraGTP, che mi è piaciuto davvero tanto ma la sua natura casual e da clicker fa sì che più di un 14esimo posto non possa salire. 13esimo posto per Fable Fortune, che mi è piaciuto come gioco di carte ma non ha scavato particolarmente dentro di me, nel senso che ci ho giocato un po' e poi fine. però non è male. 12esimo posto per Turmoil, di cui ho fatto la recensione, ah sì per Plantera e Fable Fortune ci sono recensioni caricate sul canale. Turmoil anche, c'è la recensione sul canale, molto bello come casual game, un po' come dicono la recensione ma alla lunga stufa e quindi ecco. 11esimo posto per un'anteprima, Holy Potatoes a Weapon Shop, di cui ci sarà la recensione appena riesco a trovare la forza per finirlo perché dopo le prime tipo 5 ore diventa estremamente ripetitivo e pesante. Quindi sto facendo un po' fatica per Turmoil a portarlo avanti, però di base è molto bellino. Aspettate la recensione sul canale per saperne di più. 12esimo posto per Voodoo Tree 2 Worlds, che davvero è super 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 bello per un bambino. Un adulto dopo un tot si stufa perché ha delle tempistiche da bambino o comunque da infante ecco, cioè proprio da bambino bambino. Nonno posto, un'altra anteprima, Lords of Xlima, un gioco di ruolo bellino ma anche quello, cioè patisce il fatto che non ha trama. Ha una trama ma è molto molto debole, ha una lore ma è molto molto debole quindi non è quell'elemento che di solito nei giochi di ruolo ti tiene acchiappato. In The Witcher per esempio la storia è così forte che non vedi l'ora di tornare a casa e continuarla, continuare a questa principale per sapere che cosa succederà, che cosa è successo a tizio X, cosa è successo a tizio Y, come si salverà il nostro personaggio da questa One Pass. Mentre invece là no, cioè uccidi dei mostri e sconfiggi il boss e continua. Fallo a loop. Ma ci sarà poi una recensione più avanti sul canale. Quando anche là riuscirò a trovare tempo per terminarlo perché sono comunque un'ottantina di ore di titolo, quindi ci vorrà un po'. Kingdom Rush lo troviamo al posto numero 8, posto numero 8 è a metà classifica circa, è molto bello, mi è piaciuto e quindi a metà classifica ci sto. Settivo posto per un altro titolo di cui non è ancora uscita la recensione Agatha Christie via ABC Martyrs che sto giocando con mia madre, cosa particolare, non voglio spoilerare troppo, saprete poi sulla recensione. Sesto posto per Kingdom Rush Frontiers che a differenza del titolo precedente Kingdom Rush riesce ad innovare un po' a aggiungere degli eroi un po' diversi, ci sarà presto la recensione sul canale, si tratta di poco tempo perché ho finito di giocarlo e sto scrivendo già la recensione. Quinto posto, ci avviciniamo al podio per Ocean Horn Monster of Uncharted Seas di cui c'è la recensione, non mi sembra che ci sia altro da dire, bellino. Quarto posto per American Truck Simulator, non è più in alto semplicemente perché non è innovativo, è praticamente un Neurotruck Simulator 2 in America e quindi praticamente zero novità, però è bello, a me piace il genere quindi yeah. Terzo posto per Rive di cui è uscita la recensione oggi in cui sto registrando questo video e bello, 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 è cattivo ma è bello, è bello e mi ha fatto sfogare, mi ha fatto imprecare, mi ha fatto appassionare, ecco. Secondo posto per Stories The Path of Destiny di cui c'è la recensione e mi è davvero un sacco piaciuto tanto che ho continuato anche dopo averlo finito e ho sbloccato tutti gli achievement tranne uno, l'ultimo achievement che richiede davvero troppo tempo e quindi credo che non lo farò mai, però mi è piaciuto un sacco. Primo primo posto rullo di tabulli per Inside, Inside davvero gioco più bello di tutti quelli che ho avuto da recensire perché la storia è davvero qualcosa di straemozionante, ma è proprio il giocarci è qualcosa di emozionante e ti lascia davvero cambiato, cambiato da prima che ci giocassi, quindi GG, è un po' la differenza tra i film che vai a vedere esci, sì ho passato due belle ore, e i film che quando esci ti dicono, cribbio, come facevo vivere prima, cioè la mia vita è diversa adesso che ho sentito questa emozione, quindi Inside è proprio così, cioè la mia vita è diversa perché ho giocato Inside. Passiamo ora ai giochi, diciamo, personali, cioè quelli che ho giocato per conto mio, per il fatto che sono un giocatore e quindi non sempre gioco per il canale, gioco anche per conto mio. O con amici. Diciassettesimo posto per Savage Lens, meno, meno, questi li ho divisi anche in meno circa più, 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 meno, nel senso che no, ha delle cose carine, ma in Early Access ci sono troppe cose che mancano, è un survival, ma niente, non prende, non gira, no, no. Sedicesimo posto per Space Engineers, che ho provato con Pier Paolo, un mio amico Pier Paolo. Un po' come sopra, nel senso che, ma beh, cioè, solo lì, lì, è un lavoro giocarci, è complicato e non ti dà soddisfazione, è un lavoro, cioè, è come lavorare, non ti dà pagamento, non ti dà una sensazione piacevole, non ti dà una sensazione di sfogo, di rilassamento, niente. È come se stessi lavorando. È un survival, ma non ha delle componenti survival, è tipo solo sandbox, quindi, boh. Quindicesimo posto per Skyrim Special Edition, che ho provato appunto per Skyrim Legendary Edition, e niente, cioè, ormai Skyrim, per me, per quanto riguarda me, ha fatto il suo corso, ho provato a riniziarlo, a riappassionarmi, ci ho giocato anche, boh, 5-6 ore di seguito, ma poi, boh, cioè, non mi dà mai la forza, cioè, non mi dà mai lo spunto per riprenderlo in mano, perché è troppo un folleggiare, mettere delle mod, folleggiare un altro po', cambiare le mod, folleggiare un altro po', ma non mi dà la voglia di continuare la quest principale, ma come non me lo dava neanche un tempo, secondo me il fatto di essere open world l'ha mazzolato troppo, cioè, puoi fare tutto, ma non ti fa, cioè, non hai voglia di fare niente, alla fine ti metti là e raccogli i cavoli, piuttosto che pesti dei briganti a caso, provi la moda del cavallo volante, ma, cioè, è un bighellonare. Quattardicesimo posto, andiamo nella fascia dei circa, circa, per Ryzen, Ryzen 1 che ho avuto da uno scambio, non è un titolo uscito adesso, assolutamente, e non parte, nel senso che non mi ha preso, certa gente ha detto, no, è bellissimo, parti, devi far quello, devi far quell'altro, e invece, non mi sta a prendere, mi spiace, perché tutti dicono un gioco strabello, Ryzen, Ryzen 2, Ryzen 3, tutti, dei giochi di ruolo fenomenali, ma non mi ha catturato, proverò a continuare, ma dubito, credo che lo abbandonerò. Tredicesimo posto per Year Walk, un gioco molto particolare, e per questo, per questa sua originalità bello, ma pesante, nel senso che io, non pesante, è lievemente macabro, ma credo che sia dovuto, dal fatto che è basato su mitologie svedesi, comunque nordiche relative alla Svezia, e alcune di queste sono macabre, tipo dei bambini ammazzati, è molto sanguinolento, truculento, ansiogeno, non il tipo di gioco che fa per me, insomma. Non che sia un horror, o che ti voglia far spaventare, ma è una sensazione che ti lascia addosso che non mi piace, però è un bel gioco, ecco. Tredicesimo posto per Cibeli, Cibeli è bello, ma è meno ancora che un Walking Simulator, è ancora meno interazione che un Walking Simulator, cioè la storia è un passo oltre di un film, è come guardarsi un'ora di film alla fine, perché non fai un Kaiser nel gioco, non fai proprio niente, cioè sei inutile, sei solo a sentire che cosa dicono i personaggi, cazzin, senti cosa dicono i personaggi, cazzin, fine del gioco, un'ora, ma neanche tipo 55 minuti dura, boh, era in un bundle, ma da solo non l'avrei mai comprato. Un decisivo posto per Grid 2, che mi è piaciuto, e anche molto, solo che forse per essere per un mio problema con i giochi di guida, non mi dà lo spunto per ritornarci la volta successiva, ecco, cioè se ci gioco mi piace, ma non mi cattura l'attenzione da una volta all'altra, non è che dico, ah, adesso poi faccio la gara successiva, no, boh, se mi capita poi un giorno metto lì e la faccio, ma se no no. Decimo posto per Pony Island, che ho provato molto di recente, appena prima delle vacanze natalizie, e sì, sì, o l'ho provato dura, non mi ricordo, comunque l'ho provato di recente, super recente, e mi è piaciuto, cioè è geniale, è geniale e pazzo, cioè secondo me è un pazzo per aver concepito una roba del genere, chi l'ha prodotto, perché è davvero pazzo come gioco, però è bello, non è un gioco chissà quanto potente, però, sì, sì, ed è il primo dei più, tra l'altro, decimo posto è il primo dei più, non ho posto, abbiamo un altro più, Space Channel 5 parte 2, è un gioco super mega vecchio che voglio inventare tra l'altro da vario tempo, e ho finito, ho giocato e ho finito quest'anno, e mi è davvero piaciuto, è tipo un Just Dance prima di Just Dance, ecco, Just Dance della mia generazione, in cui tra l'altro c'è anche Michael Jackson, cioè featuring Michael Jackson, che, cioè, non vorrei dire, è morto in fratti nel frattempo, cioè, tempo che io lo giocassi lui è morto, ma adesso lo vogliamo. Ottavo posto per Broken Age, un altro più... bello, un'avventura grafica bella, 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 una delle migliori che abbia mai giocato, ma la seconda parte perde tantissimo, la seconda parte perde tantissimo, hanno accelerato per farlo uscire e ci sono degli enigmi sottotono, degli enigmi troppo difficili, la storia non decolla più, è un peccato, perché la prima parte è davvero favolosa, è una delle... cioè, forse è stata solo per la prima parte, Best Avventura Grafica Punta e Clicca Ever, per quanto mi riguarda, però c'è la seconda parte, quindi... mi spiace, mi spiace. Settimo posto per un'altra avventura grafica punta e clicca, Grim Fandango Edizione Remastered, bella, 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 secondo me paga il fatto che è una remastered e quindi è l'avventura grafica come era concepita un tempo, cioè dovevi giocarci mille ore e pensarci durante la giornata per riuscire a risolvere gli enigmi, però è bella, cioè l'ho giocata con la soluzione a un certo punto, perché non è così immediata come le avventure grafiche odierne. Sesto posto per Borderlands, che sto ancora continuando con il nostro amico Xenon e è bello, è bello, è un bel FPS con un'ambientazione originale, con una storia originale, discrete missioni, discrete nemici, è un momento bello, yeah. Quinto posto, primo con il doppio più Tomb Raider 2, che avevo iniziato quando ero piccolo in realtà, ma non ho mai avuto la possibilità di continuarlo e finirlo. Adesso sono quasi arrivato alla fine, in questo 2016, l'ho riniziato da capo perché l'ho avuto per Steam tramite uno scambio con un amico e davvero io trovo fantastico il level design che avevano quei tempi, cioè ho giocato a un sacco di altri giochi ultimamente che provano dei level design davvero terribili rispetto a quello, invece su Tomb Raider 2, cioè è studiato in una minuziosità che mi fa applaudire, davvero, è bello, è troppo bello. Paga un po' lo scotto di essere vecchio, ecco, quindi delle dinamiche non sono contemporanee, non sono bene studiate per oggi, per la contemporaneità, però speciale, cioè 15 livelli ma uno più bello dell'altro. Quarto posto per 80 Days, che è un'avventura grafica un po' peculiare, ecco, tipo libero gioco, in cui ripercorriamo il giro del mondo in 80 giorni di Gilles Verne ed è strabello vedere ogni volta facendo delle scelte diverse che tipo di viaggio facciamo intorno al mondo. Certe volte si arriva, certe volte non si arriva, certe volte muori, certe volte ti sposi, un sacco di avventura, davvero, e terzo posto, podio, doppio più, Cook Serve Delicious, mi ha intreppato troppo quel gioco, è il gioco di ristorante, di ristorazione in cui devi cliccare con violenza proprio i tasti che ho donato di più in tutta la mia vita, cioè, davvero, ho fatto un sacco di ore e che ancora voglio giocarci e fare gli achievement, finire gli achievement, rifarlo, fare una partita più difficile, le sfide settimanali, perché è dannatamente bello, cioè, ti fa sentire più bravo quando migliori, è tipo superare te stesso giorno dopo giorno, e non sentire la difficoltà in questo, ebbè, bellissimo, bellissimo, complimenti. Secondo posto per Mount & Blade Warband, che avevo in inventario da una vita, ma che ho giocato solo quest'anno, ho iniziato a giocare quest'anno per prepararmi per Bandalod, ed è fenomenale, Mount & Blade, Mount & Blade è la simulazione bellica più fantastica che sia mai stata concepita dalla mente umana, e ha un'immersività paurosa, davvero, cioè, adesso si esce Bannerlord, davvero, come ce l'hanno dipinti, è il gioco di sempre, cioè, altro che Game of the Year, Game of the Century Edition, favoloso. primo posto per Stardew Valley, Stardew Valley spettacolare, io ho adorato la saga di Harvest Moon, e quindi è un successore in tutto, in tutto, ne ho fatto un video, se l'hai avuto sul canale, e non l'ho ancora finito, ma è splendido, non so cos'altro dire, è davvero troppo, cioè, ti tiene attaccato, no, aspetta, ancora un giorno, un altro giorno, e non esce più, cioè, puoi fare la notte insonne giocando a Stardew Valley, e poi continuare il giorno dopo e la notte dopo, cioè, favoloso. Sezione speciale per Her Story, Her Story che avevo già giocato quando era uscito, forse, mi pare 2015, sì, perché era l'anno in cui ha vinto il Game of the Year, The Witcher 3, e, che dire, lo sto rigiocando adesso con la mia coinquolina, ed è sempre un'emozione, ed è un'emozione vedere l'emozione dell'altro. Menzione speciale, quindi, per questo. Il video è diventato lunghissimo, credo che non se lo filerà più nessuno, però, niente, questo era quanto volevo dirmi, questo è stato il mio 2016, qual è stato il vostro 2016, quali sono i giochi che vi sono piaciuti di più? Ditemelo nei commenti, iscrivetevi, lasciate il mi piace, o non mi piace perché sono andato molto per le lunghe, però, ciao, alla prossima! Grazie a tutti!